Come cambierà l'assistenza territoriale e sociosanitaria della provincia di Teramo alla luce del decreto ministeriale 77 del 2022? In che modo il PNRR contribuirà ad ampliare e migliorare l'offerta dei servizi socioassistenziali sul nostro territorio? Sono state queste le domande che hanno animato la giornata di studi promossa dalla diocesi di Teramo Atri con la collaborazione dell'Asle di Teramo e il centro di ricerca della piccola opera Caritas di Giulianova. Sono contento che la piccola opera Caritas insieme con tutta la struttura dell'Asle in collaborazione con loro possano veramente offrire un momento di riflessione per ripensare la riforma sanitaria, le intuizioni soprattutto in riferimento al primato del territorio, dunque della comunità che deve farsi carico della salute di elaborare e di promuovere un concetto di salute che possa permettere a tutti di poter vivere pienamente la propria esperienza umana. Ed è per questo che le parole del Papa abbia cura di lui. Credo che sia davvero un invito molto importante a fare un passo in avanti in cui nessuno si senta solo nei momenti della malattia, nei momenti più difficili della propria esperienza umana. Presenta l'evento in diretta streaming anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci che ha voluto incentrare il suo intervento sull'importanza dell'assistenza territoriale socio-sanitaria. L'assistenza territoriale socio-sanitaria con particolare attenzione alle fasce di popolazione più fragili e vulnerabili è la sfida che tutti noi siamo chiamati ad affrontare con determinazione ed urgenza. Le parole chiave intorno a cui ruota questa giornata di studi rappresentano certamente il faro dell'azione di governo nazionale. Fragilità, prossimità, sostenibilità, comunità. L'aspettativa di vita in Italia è tra le più alte in Europa. Nella nostra nazione si vive più a lungo ma l'invecchiamento porta con sé un incremento delle patologie croniche e soprattutto la necessità di rispondere ai bisogni di assistenza sanitaria e sociale. Un argomento molto complesso su cui la Regione Abruzzo ha annunciato di essere al lavoro per rispondere in maniera concreta. Noi come Giunta abbiamo deliberato tutta la rete territoriale che vede compreso tutti gli impegni che dobbiamo mettere in atto attraverso il DM77 con fondi proprio del PNR. e quindi diventerà l'assistenza del territorio una realtà nella nostra Regione proprio perché abbiamo gli indicatori adatti che stabiliscono sia il numero delle case di comunità, degli ospedali di comunità, dei COT, ma soprattutto abbiamo fondi per le grandi attrezzature e fondi per il personale.